abbiamo celebrato in questi giorni la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli difunti peccato però che la festa di tutti i santi in qualche modo venga oscurata da una celebrazione collettiva di halloween ecco perché l'antropologo pollo ha detto che halloween è la caricatura della morte per non fare i conti con la propria finitezza la caricatura di un'antica tradizione culturale per rimuovere dalle coscienze delle persone la consapevolezza della propria mortalità così l'ha definita l'antropologo mario pollo che ha definito la festa di halloween ridotta tutti gli effetti ad una fiera del consumismo in una società che paradossalmente da un lato rimuove la morte dall'altro ne dà quotidianamente una iper rappresentazione mediatica e si chiede se non sarebbe meglio invece proporre ai nostri bambini delle figure che sono luminose figure di santi come carlo acutti come chiara luce vadano solo per citarne alcuni che hanno spesso la propria vita per la santità anziché propinare ai giovanissimi vuoti simulacri di tenebre sarebbe preferibile educarli alla bellezza incoraggiandoli a cercarla in questi coetanei così luminosi grazie